in risonanza.f attraverso francesca r 8 gennaio 2023 a cura di vb domanda ho paura che quello che faccio sia una cosa sbagliata guida perché hai questa paura che sia una cosa sbagliata domanda perché non so se guida perché già sai la risposta che è una cosa sbagliata e la consapevolezza che già è presente nel tuo inconscio ma che ti sforzi di non seguire soprattutto non spetta a te risolvere il problema quello che invece puoi risolvere se proprio vogliamo affrontare l'argomento e come ci si pone quando si entra in risonanza vedete prima abbiamo parlato di un animale domestico e adesso di un compagno che entra in risonanza con un'altra parte dell'essenza che si manifesta nella nostra forma quello che risuona intorno a noi risuona come noi come insieme ma non puoi obbligare qualcosa a risuonare esattamente come te e l'altro che deve decidere di risuonare come te l'animale un'altra forma incarnativa l'essere umano parliamo di essere umano in generale non è il caso specifico quindi quando ci si approccia ad un'altra forma incarnata bisogna avere l'accortezza di seguire la propria coscienza il vostro sesto senso che è la prima cosa che vi arriva ed è quella giusta